Forza ragazzi! Cos'è? Stupendo! La panna è diventata un tutt'uno con la pasta! Così densa, incredibile! Supe di pasta! Che armonia di sapori! Che consistenza! Anche le linguine! Chi ha fatto questo? Crema Galactos, adoro per pasta! Plusia i fee, che diventa una con la zyma rica, e non c'è nulla! Adoro per pasta! Allo tapperemento, la zyma rica!